Oggi prepariamo insieme il filoscio napoletano omelette ripiena. Unite in una ciotola le uova, il formaggio grattugiato e aggiustate di sale e pepe. Sbattete con una forchetta e nel frattempo riscaldate la padella. Aggiungete il composto nella padella calda e lasciatelo rapprendere. A questo punto unite gli ingredienti che avete scelto per il ripieno. Io ho scelto le zucchine grigliate, della provola affumicata e del prosciutto cotto. Ripiegate l'omelette su se stessa. e richiudetela. Quindi lasciate cuocere. Rigirate l'omelette. E proseguite la cottura. Il filoscio è pronto quando il formaggio all'interno o la mozzarella o quello che avrete scelto si sarà sciolto. Ed eccolo pronto per essere servito. Caldo avvolgente e filante. Grazie a tutti e alla prossima videoricetta. Ciao!